Il Cinema Massimo di Torino ha ospitato la presentazione in anteprima del film I Giorni di Torino, 18 aprile 6 maggio 1945. L'opera cinematografica in 75 minuti racconta i giorni in cui il piano della liberazione di Torino si realizza a partire dallo sciopero del 18 aprile per giungere alla grande parata delle forze partigiane il 6 maggio. Il film è stato realizzato dall'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione. I Giorni di Torino è un film corale, racconta quei 4-5 giorni fondamentali che permisero alla Resistenza di liberare autonomamente la città di Torino attraverso le storie di quei ragazzi che allora avevano 18-19 anni, testimonianze eccezionali, immagini d'epoca, raccontare e restituire al pubblico l'atmosfera di quei giorni drammatici ma caratterizzati anche da una gioia immensa per un periodo di sofferenza che si chiudeva con la liberazione della città.